Ciao, sono Marco Zammarchi, fotografo e imprenditore. Oggi sono in veste di Hacker Photographer, la community nella quale parliamo esclusivamente di temi di business nel settore della fotografia di matrimonio e di famiglia. Ma veniamo a Ellen. Dunque, per quanto riguarda Ellen, il Black Friday riguardava tutti i servizi fotografici escluso il newborn, con una particolare attenzione alla gravidanza, perché in realtà la gravidanza è il primo tassello fondamentale per chi fa family photography, cioè se devo decidere di creare un funnel, quindi un imbuto di vendita, la parte più alta è la donna in gravidanza, perché la donna in gravidanza è incascata banalmente, potrà fare il newborn, il battesimo, il servizio di crescita, la smash cake, il Natale, e quindi ha nella pancia qualcosa come 1000-1500 euro di valore di servizi fotografici, quindi quello è il nostro punto di riferimento. Detto questo, il risultato per Ellen è stato interessante perché su 58 richieste e contatti ha chiuso 25 contratti, di cui mi sono segnato il 50% erano contratti di gravidanza e la cosa interessante è che di questi 25 contratti, come avevamo studiato noi la promozione, sono tutti nei due mesi più morti dell'anno di Ellen, perché li avevamo blindati Black Friday nel periodo post natalizio, in modo tale da non andare a svendere i servizi fotografici nei momenti in cui abbiamo l'altissima stagione e andare invece a stare un po' più bassi e aggressivi in un periodo che sappiamo che Ellen è un po' più tranquilla con il proprio lavoro in studio. Quindi questi servizi, questi 25 contratti chiusi, andranno a coprire gennaio e febbraio e li abbiamo strutturati preventivi del Black Friday in modo tale che rispetto ai soliti preventivi di Ellen consegniamo meno fotografie. Di solito Ellen consegna più di 15 scatti a servizio fotografico, in questo caso qua ne abbiamo tarati 10 sicuri del fatto che saremo bravi o si spera che saremo bravi a fare tutta quella pratica di upselling, di vendita successiva, delle fotografie in più, di pannelli, album libro e altre cose che possano derivare da dopo il servizio fotografico che farà Ellen. La seconda cosa interessante è che ci sono un sacco di gravidanze qui dentro, più del 50%. Mi sembra che ci siano 14 servizi di gravidanza su 25 contratti chiusi e questo sicuramente si porterà dietro almeno per un altro 50% di queste gravidanze altri servizi fotografici che nel breve saranno il newborn e il servizio di battesimo. In merito al discorso del newborn ci tengo a dire che la cosa interessante è che Ellen è stata molto brava quest'anno a targettizzarsi sul newborn perché effettivamente è un servizio che fattura di più rispetto all'altra media dei servizi perché si porta dietro una serie di difficoltà tecniche più alte. Ti caratterizza molto perché far la foto di un cucciolino di 12 giorni è più affascinante di un bimbo di 6 mesi o di un anno seppur siano altrettanto belli anche i bimbi di quell'età lì e quindi devo dire che Ellen ha fatto un ottimissimo lavoro dal punto di vista marketing facendosi inquadrare come la fotografa del newborn quindi capite bene che nel momento in cui lei ha fatto un black friday dove si porta dentro 14 gravidanze e lei è la numero uno del newborn qua in zona in un raggio di 80 100 km è molto probabile che si porti a casa anche i servizi newborn andando a recuperare quella parte di margine che dico che abbiamo perso con il black friday ma in realtà lo dobbiamo leggere come un costo che abbiamo sostenuto anziché investire in pubblicità abbiamo investito in una promozione speciale. Se ti piacciono i nostri contenuti clicca sulla campanellina e potrai ricevere un aggiornamento e una notifica ogni qualvolta ci sarà un nuovo video.